Ciao a tutti, l'amico Yoda gay. Ecco perché ogni gay dovrebbe averne uno. In questo video sulla seduzione gay ti voglio spiegare perché ogni gay dovrebbe avere un amico Yoda gay. Prima di questo video, prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise, mirate alle tue domande. Adesso veniamo al tema, l'amico Yoda gay. Allora, dobbiamo, devi tenere presente un qualcosa di fondamentale che, diciamo, chi è l'amico Yoda gay? Ricordiamoci che Yoda è quel personaggio della saga di Star Wars che è il maestro, quello che insegna, diciamo così, a Skywalker a diventare Jedi. È il maestro, il gran maestro dell'ordine Jedi. Quindi è la summa dell'esperienza. E quindi è importante, diciamo, avere un amico che sia un amico Yoda gay. Cioè un amico che sappia tutto sul mondo gay. Se, diciamo, non sei un gay così esperto. È una persona che conosce l'ambiente gay molto bene. Conosce i locali gay dove poter fare degli incontri di un certo tipo. Sa bene chi sono i gay, chi non sono i gay. Conosce, diciamo, tutti i trucchi per beccare, diciamo, per riconoscere le velate. Cioè quelli gay che restano nascosti. È prezioso per una persona che si si approcci non da tanto nel mondo gay. E tra l'altro può anche essere, diciamo, tra virgolette, una nave scuola. Perché potrà insegnare molte cose, non solo a livello fisico. Quindi anche, appunto, avere rapporti con lo Yoda gay può essere interessante. Tra l'altro ti insegnerà molte cose. Ad esempio, per riconoscere le cosiddette culandre. Cioè, che sono i gay da evitare, diciamo. Sono i gay che presentano, messi assieme, tutti i difetti delle donne e degli uomini uniti, diciamo. Hanno, che ne so, la cattiva abitudine di ruttare a tavola, di usare un linguaggio, uno slang, diciamo, improponibile. E poi, diciamo, fanno scenati isterichi come molte donne. Quindi sono situazioni da lasciare perdere. Quindi, avere un amico Yoda gay ti fa risparmiare molte cose. Soprattutto, se tu sei un nerd e non sei, diciamo, così esperto. Quindi questo è fondamentale. Se riesci a trovare uno Yoda gay, dovresti averne uno. Una musa, un mentore, perché come tutte le cose, andare a, diciamo, iniziare a frequentare un ambiente che non si conosce, si rischiano di prendere molte fregature. Soprattutto nei locali da frequentare, quelli da non frequentare. E, come dicevo, anche personaggi improponibili che ci sono in ogni ambiente. Ovviamente, anche nell'ambiente gay che devi evitare. Quindi vai a ricercarti, vai a ricercare il tuo Yoda gay se sei gay, insomma. E anche una velata. Cioè, quelle, i gay nascosti dovrebbero comunque avere uno Yoda gay. Magari tenendolo velato pure lui, se non si vuole. Però potrebbe essere un qualcosa di interessante, di utile. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici. Iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E ti ricordo di notte che sul canale ti puoi abbonare e potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate. Abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari del vivo. Abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti.